da domenico 1 a montagnese Angela ha un po' dei... sei frangere dove sono quei frangere... Sì! 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 Vediamo che esca! A posto, a posto! Non era una foto, era un video! Io non mi sono ripreso! Sì! Se lo faccio! Questo qui c'è! Sì! 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 Ma questo è lì! C'è questa luce qui che è? Che? Ah non so! No! E Carlo c'è un altro... ...a pronta! ...a pronta... ...a pronta! ...a pronta! ...a pronta!